ciao ragazze bentornati sul mio canale oggi video recensione di un prodotto che mi è stato inviato tempo fa da Emporio Organico, un sito, un e-shop, un'azienda che mi ha inviato due prodotti, sia la mousse anticellulite, magari vi lascio giù nell'info box il link correlato dove incomincio a parlare della mousse anticellulite, di come mi sto trovando, è un prodotto ragazzo ovviamente che ha bisogno di un test di diversi mesi per poi esprimere un giudizio in merito. Oggi vi parlo invece del Care Extract Hair Shampoo Anticaduta, non contiene parabeni, 250 ml in porio organico, eccolo qui, l'ho quasi ultimato, la scrittina è andata un po' via, è un boccione appunto di 250 ml a 12 mesi, qui dice consigliato per lavaggi delicati in presenza di diradamento e indebolimento capillare. Funzionalità shampoo specifico indicato per la detersione dei capelli e del cuoio capelluto come coadiuvante nella prevenzione del trattene della caduta. L'inci contiene dei belli estratti, dei belli estrattini, olio di cocco, estratto di Indian Cress, quindi tutti gli estratti che dice qui stimolano efficacemente la circolazione periferica favorendo l'ossigenazione e il nutrimento del bulbo. È un prodotto che mi ha stupito, dico la verità, avevo un po' di remore in merito perché quando ho letto lavaggi delicati, indebolimento capillare, credevo fosse qualcosa di molto delicato, quindi che mi annodassi i capelli e non avesse questi risultati funzionali. Dico la verità, invece mi ha stupito parecchio perché? Perché oltre a rendere lucidi i capelli, oltre a detergere in modo delicato, è funzionale. Necessitano sempre i capelli di un balsamo duma, ma meno, mi sento meno aridi, meno annodati, meno secchi, quindi mi ha stupito molto. Poi il profumo è molto delicato, non invadente, non stucchevole, è bellissimo, bellissimo profumo, davvero mi ha molto stupito, sono rimasta molto contenta. La consistenza è giallina, un giallo avorio liquido ma non troppo, tra il denso e il liquido, ne basta pochissimo, fa una bella schiuma, ripeto non aggredisce, è adatto a lavaggi delicati però funzionali. Lava bene, io lavo i capelli due o tre volte alla settimana, mi sono trovata benissimo, ne basta poco, infatti mi è durato parecchio. Sul sito vi metto i riferimenti giù in info box, ripeto è un prodotto che deterge con delicatezza, rende capelli lucidi, morbidi, puliti a lungo e davvero funzionale, nonostante sia indicato per lavaggi delicati. Io lo consiglio, sia indicato per lavaggi delicati, scusate, io lo consiglio comunque anche a chi ha una cute grassa, normale, tendente al grasso come la mia. Anzi fatemi sapere nei commenti se l'avete già provato, se avete provato altri, sono diverse linee, quindi fatemi sapere un po' nei commenti. Comunque esperienza positivissima. Poi farò il video, giro il video in merito alla mousse anticellulite che sto testando, mi sta piacendo. Contiene qualche ingrediente non proprio, diciamo, simpatico, però comunque la sto testando, poi vi dirò, profumo paradisiaco. Vi lascio proprio il link giù nell'info box dove ne parlo, dove ho fatto una mini recensione così introduttiva per darvi un po' un'idea. Naturalmente, ragazzi, sappiamo che i prodotti anticellulite ci vuole parecchio per testarli, almeno per quanto mi riguarda, perché non è che in un messe, in 15 giorni sia l'effetto anticellulite. Già è difficile che un prodotto, almeno in base alla mia esperienza, dia questi risultati, di, non credo che esista un prodotto che faccia scomparire di una celulite, ma di rassodamento, di aspetto della pelle meno rilassato, quindi un aspetto più compatto, più tonico, ho necessità di testarlo per bene. Ok, fatemi sapere nei commenti giù se avete provato questi prodotti e vi rimando al prossimo, intanto continuo a girare. Ciao ragazzi, un bacio.